Dove veniamo appena abbiamo la possibilità, questo oltre a noi è una cosa che fanno tanti miei compagni e fa capire il comfort che ci dà questo hotel. Io ho avuto anche il piacere di pranzare qualche volta nelle giornate in cui ero tranquillo con amici al ristorante e si mangia anche bene, quindi ringrazio lo chef e gli altri ragazzi che lavorano qua, da parte mia è stato un altro salto di qualità che ci fa capire quanto il nostro club sia all'avanguardia.